Una giornata straordinaria, anche se non potremo fare la processione a mare, celebreremo ugualmente con grande solennità i 950 anni del riscoprimento del corpo di San Cataldo, esattamente il 1071 un mio antecessore, l'arcivescovo Drogone, trovava questo corpo e dal corpo e dalle reliquie emanava un profumo immenso e di lì ricominciò la ricostruzione non solo della cattedrale ma dell'intera città, allora è un buon segno, un buon presagio perché la nostra città sia liberata dall'inquinamento, dai problemi sociali, dalla mancanza di lavoro e sia proprio una primavera di ricostruzione con la protezione del Santo, con l'impegno di chi ha responsabilità maggiori a livello di Stato, la partecipazione di ciascuno di noi, proprio perché questa festa viene in un momento importante, decisivo, come è stata la ricostruzione della cattedrale così è indispensabile la ricostruzione piena di speranza del nostro territorio e poi non faremo nemmeno la processione per la città ma ugualmente sarà celebrata con degnità anche sia domani, domenica ma poi anche lunedì, il giorno della liturgia, solennemente la festa perché il nostro patrone è un segno di speranza, un segno di solidarietà, un segno di ripresa per tutti quanti noi, per la nostra città. Una buona festa di San Cataldo a tutti quanti voi. Diversa sì, quest'anno chiediamo in particolare a San Cataldo che con quel gesto che il nostro arcivescovo compie per tradizione di buttare l'anello per placare i flutti, insomma placi anche la pandemia, placi la crisi, placi anche la tempesta che ci portiamo dentro come comunità da tanto tempo perché abbiamo bisogno di stare insieme, di ripartire uniti e di fare in modo che insomma questa festività che peraltro quest'anno cade come sapete nei 950 anni anche di ricostruzione di questa basilica cattedrale che è la più antica di Puglia, ecco sia un momento di grande rinascita per la nostra comunità, di grande concordia, di grande anche spirito di carità. Sono molto emozionato ovviamente voglio mandare il mio augurio a tutti i tarantini sarà come dire una festa patronale ancora particolare quest'anno ma sono sicuro che insomma San Cataldo ci spingerà verso la ripartenza.